Si concluderà a Cava dei Tirreni con la tredicesima tappa di questa stagione il Gusto Italia in Tour 2021. Da domani, venerdì 1 ottobre, a domenica 3, presso il Corso Mazzini, sarà possibile degustare le eccellenze del gusto campano e di molte altre regioni italiane, scoprire le bellezze del mondo dell'artigianato e conoscere dal vivo i produttori. L'evento, organizzato e promosso dall'Associazione Italiana Eventi, è patrocinato dall'Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e realizzato in collaborazione con il Comune di Cava dei Tirreni. All'inaugurazione prenderanno parte il sindaco Vincenzo Servalli, il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo, l'assessore al bilancio Antonella Garofalo e l'assessore alle attività produttive Giovanni Del Vecchio. È un evento di rilevanza nazionale, è una delle tante tappe che gli organizzatori hanno programmato e per noi è motivo di vanto e di orgoglio averli a Cava dei Tirreni. In sostanza l'iniziativa è diretta a promuovere e a valorizzare non solo le eccellenze della regione campania ma di tutte le regioni italiane, anche attraverso una promozione con degli stand che saranno poi siti in Piazza Lentini. Colgo l'occasione per simulare le associazioni di categoria, in particolare la Confesercenti, a iniziare in una fase di concertazione a immaginare anche iniziative che riguardano il settore produttivo locale, quindi le aziende locali, perché è giusto, io da interlocuzioni che ho avuto col Presidente della Confesercenti Aldo Trezza, l'ho invitato anche a promuovere e a proporre all'assessorato che resta aperto a 360 gradi anche iniziative che riguardano le categorie produttive di Cava dei Tirreni. Ciro lodato traslochi, Cava dei Tirreni, al corso Umberto I 281. Si concluderà a Cava dei Tirreni con la tredicesima tappa di questa stagione il Gusto Italia in Tour 2021. Da domani, venerdì 1 ottobre, a domenica 3, presso il Corso Mazzini, sarà possibile degustare le eccellenze del gusto campano e di molte altre regioni italiane, scoprire le bellezze del mondo dell'artigianato e conoscere dal vivo i produttori. L'evento, organizzato e promosso dall'Associazione Italiana Eventi, è patrocinato dall'Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e realizzato in collaborazione con il Comune di Cava dei Tirreni. All'inaugurazione prenderanno parte il Sindaco Vincenzo Servalli, il Presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo, l'assessore al bilancio Antonella Garofalo e l'assessore alle attività produttive Giovanni Del Vecchio. È un evento di rilevanza nazionale, è una delle tante tappe che gli organizzatori hanno programmato e per noi è motivo di vanto e di orgoglio averli a Cava dei Tirreni. In sostanza l'iniziativa è diretta a promuovere e a valorizzare non solo le eccellenze della regione campania ma di tutte le regioni italiane, anche attraverso una promozione con degli stand che saranno poi siti in Piazza Lentini. Colgo l'occasione per simulare le associazioni di categoria, in particolare la Confesercenti, a iniziare in una fase di concertazione a immaginare anche iniziative che riguardano il settore produttivo locale, quindi le aziende locali, perché è giusto, io da interlocuzioni che ho avuto col Presidente della Confesercenti, Aldo Trezza, l'ho invitato anche a promuovere e a proporre all'assessorato che resta aperto a 360 gradi anche iniziative che riguardano le categorie produttive di Cava dei Tirreni.